Un nuovo appuntamento con cronache e commenti il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito, come di consueto, i titoli degli argomenti che andremo a trattare. Trasporto sociale per soggetti con fragilità socio-economica, approvata all'unanimità una risoluzione. Arti, via libera del Consiglio al bilancio di esercizio 2022. Salario minimo, approvate due mozioni in aula. Adozioni, una mozione per riformare la normativa vigente. Rivedere i criteri relativi al trasporto di soggetti con fragilità socio-economica, rivolgendo particolare attenzione a quegli affetti da patologie oncologiche, è quanto richiede una risoluzione, approvata all'unanimità dall'Aula di Palazzo del Pegaso. L'atto è stato illustrato dal presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni, che ha ricordato di aver accolto nel testo anche le richieste arrivate dalle opposizioni e che il trasporto sociale deve essere finanziato con risorse aggiuntive. La Giunta ha fatto una disciplina di come si fa la prescrizione del trasporto sanitario, che è garantito a tutti in tutte le parti della regione toscana. Ovviamente poi sono evidenziati quei casi in cui una persona ha bisogno di essere trasportata perché è una condizione economica o sociale tale da non poter recarsi direttamente da sola nei luoghi di cura. La Giunta aveva fatto già una serie di azioni a partire a dicembre dello scorso anno per venire incontro a queste persone. Noi con questo atto diciamo che vanno allargate le maglie e soprattutto poi nella fase conclusiva che vedrà i comuni attraverso le società della salute o le zone di stretto come soggetti che riorganizzeranno tutti i bisogni legati al trasporto sociale dei nostri cittadini la necessità di arrivare velocemente a quel momento con risorse nuove, aggiuntive per gli enti locali e con delle linee guida che reghino un livello di omogeneità su tutto il territorio della nostra regione. Ora vedremo, ci saranno degli step di verifica di quanto è stato fatto e detto. Certo è che al di là del problema economico e quindi di andare incontro a coloro che in qualche modo hanno difficoltà economiche il problema è gente che può avere difficoltà economiche ma soprattutto che sta male cioè gli oncologici è ovvio che devono avere una priorità al di là di quella che è la loro situazione economica e dovrebbero essere privilegiati e comunque dovrebbero avere una via preferenziale. Quindi abbiamo presentato questa mozione, è stata radicata in terza commissione e all'interno della terza commissione è nata una discussione fatta di audizioni e di un confronto serrato sia su questi criteri sia sulla possibilità di includere anche altri soggetti all'interno del trasporto sanitario in modo particolare anche le persone con disabilità perché nel frattempo gli uffici dopo la riforma della giunta dell'ottobre scorso avevano scritto anche all'associazione del volontariato anticipando che i nuovi criteri sarebbero stati applicati anche per le persone disabili ovvero si passava da una sostanziale gratuità per tutti a pagare praticamente tutti salvo coloro che avevano un'ISEE inferiore a 9.000 euro il che evidentemente parlava da solo. La giunta ha avvarato una sperimentazione che nei primi mesi ci ha dato ragione cioè ha dimostrato che erano pochissime le famiglie che riuscivano ad accedere al nuovo sistema e quindi c'è stato un accordo che si è trasformato in un documento unitario che oggi abbiamo votato e che rispetto a un ulteriore periodo di sperimentazione chiede di fare chiarezza non soltanto sui numeri sulla qualità del servizio ma anche sui soldi che eventualmente le zone di stretto e le società della salute dovranno mettere in campo per far fronte al trasporto di queste persone. Con 17 voti favorevoli Partito Democratico e Italia Viva e 8 contrari Fratelli d'Italia e Lega il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di esercizio 2022 di Arti l'Agenzia regionale toscana per l'impiego. I numeri parlano di un bilancio solido dove abbiamo registrato uno scostamento fra costi e ricavi che è stato poi giustificato anche dalla società che controlla le partecipate della regione toscana quindi sicuramente con una parte da destinare anche del disavanzo e quindi dell'utile d'esercizio stabilendo poi le percentuali con cui destinarlo e dove destinarlo con alcune piccole raccomandazioni ma con un'ottica prudenziale di previsione che giustifica poi questo scostamento fra costi e ricavi ma è stata l'occasione importante per ribadire quello che è il lavoro di questo ultimo anno e quindi lo scatto anche di Arti nel delicato e importantissimo ruolo nella formazione e nell'occupazione delle persone che cercano lavoro in Toscana quindi abbiamo ribadito come fu fatto in commissione con la direttrice e con tutti gli uffici quali sono i nuovi punti e anche l'utilizzo dei fondi nazionali tanti che sono arrivati in questa regione e l'animazione sui territori attraverso i centri per l'impiego con l'importante incrocio fra imprese e coloro che cercano il lavoro quindi andando sui territori e cercando su ogni specificità di ogni singolo territorio di incrociare la domanda e l'offerta Il Consiglio dopo la votazione sul bilancio si è espresso all'unanimità sull'ordine del giorno collegato che nel corso del dibattito è stato illustrato dal consigliere di Fratelli d'Italia Elisa Tozzi Io credo che l'ordine del giorno che è stato approvato anche dalla maggioranza sposi questo tipo di approccio perché è impensabile investire risorse in un sistema che non funziona c'è un'esigenza che è quella di cercare di reinserire nel mondo del lavoro anche alla luce delle modifiche normative che hanno abolito il reddito di cittadinanza anche se in realtà è scorretto parlare di vera e propria abolizione soprattutto perché finalmente si riesce a distinguere tra persone che sono occupabili e che quindi possono essere inserite nel mondo del lavoro rispetto a chi invece naturalmente ha la necessità di avere tutt'oggi un sussidio perché non ha possibilità di entrare nel mercato del lavoro se noi riusciamo a cogliere questa sfida quindi portare diciamo al massimo valore le riforme normative e a utilizzare ciò che abbiamo in campo come Regione Toscana per rendere davvero questa Regione una Regione che crea occupazione che crea lavoro che inserisce giovani che inserisce le persone che in qualche modo sono potenzialmente adatte ancora oggi a dare qualcosa al mercato del lavoro a cominciare anche da kipper del lavoro ad esempio per crisi aziendali io credo che questa sia una sfida che riusciremo a vincere in questo senso monitorare l'attività di arti è fondamentale tra i temi arrivati tra i banchi dell'Assemblea Legislativa Toscana anche quello del salario minimo approvate due diverse mozioni con il voto favorevole del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle una presentata dalla Capogruppo Pentastellata Irene Galletti e l'altra dal Partito Democratico prima firmataria Ilaria Bugetti per noi è una battaglia importante perché già in Regione Toscana nel febbraio scorso abbiamo approvato una legge che riguarda gli appalti pubblici della Regione Toscana ma anche degli enti collegati quindi Estar, parchi regionali che prevedesse il salario giusto ed attuale cosa vuol dire? vuol dire che nelle aziende che partecipano ai bandi della Regione Toscana ci fosse un eco-reddito dei propri dipendenti quindi questo ci sembrava il primo passo ancora oggi unica Regione in Italia aver fatto questo passo che era un'indicazione per le linee guida alla Giunta regionale detto questo il lavoro nostro si ferma per competenza a quel livello e abbiamo chiesto che al Governo facessero un passo in più il PD in questo momento si sta mobilitando non solo il PD ma con altre forze politiche e quindi ci sembrava giusto con quelle forze politiche che stanno condividendo questa battaglia di affiancare questo lavoro che stanno facendo in Parlamento è un segnale di dignità anche perché la Germania ha innalzato la soglia del lavoro minimo a 12 euro ma è previsto anche che venga innalzato parametrato a quello che è il paniere d'acquisto dei cittadini in un momento così difficile di inflazione quella è la base minima di partenza che non va a tancare poi i redditi, i lavori più alti che sono poi oggetto di altre contrattazioni collettive quindi questo riguarda precari le persone in difficoltà e lo sfruttamento del lavoro ma anche contratti pirata quindi c'è tutto un tema grande che noi riteniamo dignitoso ed è una delle nostre battaglie principali dal Movimento 5 Stelle la richiesta alla Regione di adoperarsi presso il Governo affinché vada avanti l'iter della proposta di legge per riconoscere il salario minimo orario questa mozione risale al 2022 da quando abbiamo iniziato a intraprendere questa battaglia per il salario minimo orario che oggi appare sempre di più come una battaglia di civiltà per tutti quei lavoratori poveri con delle soglie di reddito che arrivano a 3 euro all'ora e quindi con delle cifre che non permettono neanche di sopravvivere al rincaro delle bollette degli alimenti di tutto quello che è il costo della vita e ci ha colpito veramente vedere le destre che non hanno votato o hanno votato contro a quello che è davvero un andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese si parla di 3,6 milioni di lavoratori in Italia in Toscana molti di essi sono persone che lavorano nel mondo nel settore del turismo come è stato identificato da IRPET ma ci sono anche tantissimi giovani ci sono tantissime donne e spesso delle famiglie con un solo genitore quindi questo riuscire ad approvare il salario minimo orario significherebbe per tutte queste persone una boccata d'ossigeno e soprattutto veder riconosciuto il diritto costituzionale del primo articolo della Costituzione del numero 36 che dice che il lavoro deve essere retribuito con un'adeguata quantità di denaro per l'impegno che la persona ci mette questa è una battaglia che va a tutela della qualità della vita delle persone non soltanto ma anche della dignità del tempo e della vita di tutte le persone per Fratelli d'Italia voto contrario alla mozione del Movimento 5 Stelle e non voto su quella del Partito Democratico per quanto ci riguarda abbiamo deciso di non votare la mozione proposta al Partito Democratico perché siamo in linea con quanto chiesto dalla Presidente del Consiglio Meloni la Presidente del Consiglio Meloni ha detto in maniera chiara di non essere ideologicamente contraria al salario minimo di condividere con chi è promotore della proposta per il salario minimo l'obiettivo finale del percorso che deve essere quello di migliorare il potere di acquisto dei salari italiani perché va superata l'epoca del salario a basso costo da cui stiamo uscendo con grande difficoltà anzi stavamo uscendo con grande difficoltà prima di imbattersi nella crescita esponenziale dell'inflazione ma non è detto che il salario minimo sia l'unica proposta percorribile l'unica strada percorribile il governo italiano ha dato mandato al CNEL di elaborare altre proposte ha dato 60 giorni di tempo al CNEL per elaborare altre proposte i 60 giorni finiranno all'incirca ad inizio ottobre prima della metà di ottobre non vedo perché non si debba aspettare di avere sul tavolo tutte le varie opzioni per poi poter scegliere quella migliore ma che si fa a 10 giorni dall'arrivo sul tavolo della proposta del governo si porta in aula una mozione per sposare in maniera ideologica quella battaglia del salario minimo garantito riformare la normativa sulle adozioni prevedendo la possibilità di adozione legittimante per tutte quelle persone che a prescindere dal loro essere in coppia o singole o dal loro sesso possano garantire capacità genitoriale stabilità e accoglienza è questo l'impegno chiesto alla giunta regionale da una mozione presentata da numerosi consiglieri regionali del partito democratico e che vede come primo firmatario Massimiliano Pescini l'atto è stato approvato dal consiglio con voto favorevole a maggioranza noi partiamo dal centro che è quello dell'amore verso il bambino e secondo noi visto che anche gli esempi visti gli esempi dei maggiori paesi europei dalla Francia alla Germania all'Inghilterra alla Spagna che hanno leggi più avanzate e che tutelano maggiormente il bambino e danno più possibilità di adozioni e ampiano la platea delle persone che possono richiedere l'adozione di un bambino o di una bambina chiediamo in quella impegnativa che la giunta regionale si attivi presso il governo e presso il Parlamento per dare seguito a questo nostro atto che vuole ampliare la platea dare condizioni di uguaglianza perché oggi ad esempio la cittadinanza italiana per un'adozione cosiddetta sussidiaria è un percorso molto diverso da quello per l'adozione legittimante la priorità deve essere questa poter fare adottare le decine le centinaia di migliaia di bambini già nati che oggi non possono essere adottati per colpa della burocrazia la mozione di oggi era altro era un put purri in cui all'interno c'era anche questo principio condivisibile ma si faceva altro si parlava del tema dell'adozione dei single che è un altro tema importante perché io non sono ideologicamente contrario al fatto che un single non possa adottare un figlio perché probabilmente ci sono single in Italia in grado di dare a un bambino preso in adozione una vita mille volte più dignitosa di quella che farebbe senza avere un'adozione alle spalle ma quella mozione lì era altro era una mozione ideologica che serviva a portare sul tema sul tavolo del dibattito il tema dell'adozione da parte delle coppie omosessuali che è il terzo tema è un tema ancora questa era la nostra ultima intervista grazie per la cortesia attenzione cronache e commenti torna la prossima settimana grazie a tutti